Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft insieme a Metano Ok ragazzi siamo su un nuovo server e questo server si chiama FusionCraft Dove vedete sopra l'IP poi ve lo lascerò anche in descrizione E oggi andremo a fare un nuovo minigame che vorrei portarvi sul canale perché è molto figo Metano vieni? Andiamo? Si si tranquillo tanto lo so la strada Andiamo si chiama Battle Royale ed è praticamente un gioco delle armi Oddio non tanto gioco delle armi comunque è uno sparatutto su Minecraft E' un gioco con le armi E' un gioco con le armi e sembra figo magari se vi piace io ve lo porto sul canale E intanto aggiorniamo questa lobby Forca puttana non me la fanno aggiornare E io adesso scelgo la classe e poi metto in pausa e ci rivediamo quando inizia Allora le classi sono soldato, colonnello, assalto, cecchino, mercenario e militare E poi ci sono queste qua a pagamento che io non prenderò mai Oddio non a pagamento infatti cioè se uccidete persone vi da un credito E voi a 10 credito... Vaffanculo! A 20 crediti pigliate il mitragliatore e a 10 pigliate il kamikaze Però io ho dato che... E la partita sono 5 punti Esatto però dato che io sono scarso e non vinco mai Piglio il colonnello che comunque ha il mitra e una pistola... No è il remington che è un fucile a pompa praticamente E niente quindi ci vediamo tra poco quando inizia E intanto diciamo ai nostri carissimi amici di salutare YouTube Salutate... No ma il mio fatto si spamma da... Sì mi spammo di cattiveria perché io devo arrivare a millemila iscritti Dai 10.000 in un mese Esatto 10.000 in un mese Dai salutate stronzi Ho detto salutate No guarda non ti caga nessuno Non mi cagano! Se infatti ragazzi... Ciao tu, boyee! Ho detto in questo server qua perché in prima cosa è figo e poi almeno ci trovate Quindi... Eh infatti allora ragazzi Se questo video vi piace... Eh se questo video... Se questa serie vi piace Dato che io e Metano abbiamo iniziato a fare video di Minecraft non con le serie Io ho iniziato vabbè con Emerald Però io e Metano avevamo una serie sugli Skywars Che comunque portava 2-3.000 visite a video E l'abbiamo interrotta perché il server diciamo è peggiorato a livello di cheater, di lag E la cosa ci è dispiaciuta molto Vabbè non è mai stato un gran che però Infatti no Quindi se a voi piace questa serie noi possiamo riprendere su questo minigame E quindi D Adesso metto in pausa e ci si vede tra poco eh A dopo Non mi ricordo qual è il tasto della pausa però Quindi penso che sbaglierò Ok ragazzi sto per riprendere 4, 3, 2, 1 Vai date shot di tutti Allora Metano Prima di tutto carichiamo le armi col tasto destro No col sinistro E col destro si spara Metano io non ti vedo Nemmeno io ti vedo Io sono al cilentro praticamente Ah e ti vedo Scappa 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 Dai io ti seguo Ah 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 Metano Ah ah raga Se vedete comunque mappe che conoscete Sì perché si usano home up degli younger games Oppure addirittura c'è Grove Street di GTA San Andreas Che è qualche cosa di spettacolare Infatti a me tutti sono belli Ma metano rifinitiamoci in questa casetta qui E poi appena scava il tempo usciamo a shot No No Dade Non per dire ma è un po' troppo avvicinato a Spoon questa qua Tu resta qui Non ha nemmeno le finestre Dade Sì questa Eh appunto non sono finestre sono buchi Vabbè addio Ma infatti andiamocene perché qua Guarda dove sei Oh no Il culo Gesù Eh ok Ti vedo Scappa 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 Beh piano piano ti trovo Cioè ti rincorro prima o poi la zecca 9 secondi metano Eh eh De De 5 Appena salita Ti sparo Sì ti ammazzo la sorella No no tranquillo dai Allora Mi metto a modo Ok metano Andiamo a uccidere la gente No no aspetta l'inventario a modo un attimo Ok c'ho la bomba qua Perfetto andiamo No metano io ho molta paura Perché di solito io Perché di solito io sono quello che dura di meno Lo vedi Ma non sempre guarda Non ho mai vinto Non ho mai vinto Ma vabbè Dade tu non vinci perché rimani contro di me Quindi io ti aro però vabbè Sì peccato che tipo eravamo rimasti io e lui E la bussola mi indicava che era davanti a me Però la bussola non ti dice quando una persona è sopra di te Eh vabbè ma dovevi leggermi il nome Cioè non è un luck Peccato che io non l'abbia visto Eh vabbè cazzo tu guarda Ma mi vedi? Sì sì un tiro di te guarda Il pgf5 mi vedi Ti sto anche shiftando Ma da ho lezzo Andremo verso lo spawn Sì Appunto andremo verso lo spawn Eh a parte bisogna fare i kill Perché altrimenti qua se rimanete senza colpi Più o meno potete anche quittare Perché non ucciderete mai gente con le mani No oddio io non ho visto che uccideva qualcuno col coltello Eh devono essere rimasti tutti e due senza colpi allora Eh va No no proprio l'ha andato dietro di cattivare E l'ha coltellato Un po' di volte Ah perché tipo quanto si toglie la Eh quel tizio che scrive Dade Ma non posso fermarmi a scrivere Eh dev'infatti Oh no oddio in effetti potrei però Non lo fare Dade non lo fare In effetti potresti Metano non potrei Mmm perché cosa ho detto? Ho detto potrei? Mhm Beh Dade allora c'hai ragione a quanto pare A quanto pare non so parlare dai Metano ma lo sappiamo tutti che sei dislessico Metano qui c'è un tizio morto No Dade no i tizi morti non mi piacciono Vediamo da quanto è morto Eh da quanto sarà morto Morto nei primi secondi O ne uno davanti a noi mi sa Eccolo ecco Dade dadi help Ma il fan cazzo Ma no Ma che cazzo Noo abbiamo chiuso il fan Ma doveva dirlo prima Eh come faceva No mi sa che voleva shottarci male questo qui Perché era il tizio che è cattivo Ma aspetta dai qui Dade sono stato shottato Porco Ma what Ma che cosa Da dove Ma che cosa Beh ok che me l'ho fermato Però Cosa Ma ci sono rimasto malissimo Ma anch'io Dade No Eh raga la partita finisce così Perché ho deciso di non fare video troppo lunghi su Minecraft Perché uno voi non ve li inculate E due Praticamente Non voglio farli durare troppo così Se vi piacciono Li continuo Però Piacere in che senso Non è che mi scrivete nei commenti Un mi piace Mi sta bene che mi scrivete nei commenti Sì mi piace Continua Allora ci becchiamo lì E cazzi e mazzi No Però su Minecraft Voi lasciate Fottissimamente Pochi mi piace E la cosa mi rompe un po' il cazzo Perché tipo su Pokémon Platinum Sono arrivato a 450 like In meno di un giorno E su Minecraft se arriviamo a 200 Tipo se ne cade Gesù dalla croce Capite Quindi Vabbè Vedete D'arriva a 300 Altrimenti vi ammazzo le sorelle Ok Se non ce l'avete vi ammazzo la mamma Vedete voi Ok Ok Il canale di Metano non lo trovate in descrizione Quindi non andatevi a iscrivere Oh no Date non si fa così Invece si fa così L'IP lo trovate in descrizione Vabbè lo trovate anche in alto al video Il video finisce qui Le tette sono belle Date vi saluta Aspe Aspe Ma vaffan... Sal... Salutate Ma date ma non ti caga nessuno Ma cosa Sì guarda quanta gente c'ho a fianco qui Ma io non ti vedo Dove sei? Ma come non mi vedi? No ti giuro sono allo Spunio Eh beh Io infatti sono nella Battle Royale Ecco Ah certo Questo video finisce qui Date vi saluta Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.